Ciao a tutti o bentornati sul mio canale youtube uncinetto d'argento io sono Silvia e nel video di oggi realizzeremo insieme questa semplice ma secondo me carinissima decorazione natalizia un alberello di natale utilizzando filato colla e bottoni per realizzare il nostro alberello ci serviranno pochissimi materiali e ci verranno in aiuto alcuni accessori del marchio prim in particolare utilizzeremo un cono in cartone questo in particolare è ciò che resta di una rocca di filato per borse se lavorate tante borse all'uncinetto sicuramente vi sarà capitato di ritrovarvi poi con un cono di questo tipo o in generale se lavorate a maglia o all'uncinetto molti filati vengono proposti su rocca questa è la parte centrale se non ne avete una disposizione potete realizzare un semplice cono utilizzando del cartone il mio in particolare ha un'altezza di circa 17 centimetri un diametro di 7 centimetri qui nella parte inferiore quella più larga e un diametro di circa 3 centimetri e mezzo qui nella parte superiore quella più stretta per quanto riguarda le misure in tutti i casi sono a piacere se utilizzate un avanzo di rocca come farò io e volete la vostra creazione più piccola non dovete far altro che andare a tagliare qui partendo dalla parte inferiore se invece andate a creare voi il vostro cono potete direttamente scegliere all'inizio quando andate a ritagliare il cartone le misure da utilizzare indispensabile per il nostro progetto il mulinetto comfort twist di casa prim grazie a questo strumento andremo a creare il cordoncino o tricotin che sarà la base del nostro progetto lo potete trovare in tutte le mercerie e negozi rivenditori del marchio prim quali sono le sue caratteristiche il peso è in metallo e come vedete quando non è in uso rimane agganciato direttamente al corpo del nostro mulinetto così non rischiamo di perderlo la sua forma ci consentirà di farvi passare all'interno il nostro cordoncino o tricotin senza rovinarne la superficie il plus di questo strumento è sicuramente la possibilità di agganciarlo ad una superficie piana ci basta svitare qui la parte inferiore per agganciare il nostro mulinetto a una superficie piana ad esempio un tavolo possiamo ruotare in senso orario e anti orario l'importante una volta scelta la direzione è mantenerla finché non avremo terminato il nostro cordoncino possiamo utilizzare tutti i filati che in etichetta riportano le numerazioni dal 2 al 4 e mezzo per quanto riguarda l'indicazione di numero di uncinetto e di ferri da maglia da utilizzare per quanto riguarda la tipologia di filati da utilizzare personalmente vi consiglio il cotone è quello che dà il miglior risultato possibile ma potete utilizzare filati anche con una composizione diversa anche lane acrilici misti lane l'importante è che la superficie del filato sia il più liscia possibile non deve esserci un eccessivo effetto peluria intorno al nostro filato perché rischia di rimanere bloccato all'interno dei gancetti nella parte superiore per il corpo del progetto utilizzo filato in cotone 50 grammi per circa 128 metri consigliati uncinetto e ferri da maglia dal 3 al 3 mezzo per fissare il progetto una colla super resistente personalmente io vi consiglio la gutterman ht2 come decorazione bottoni colorati questi poi arrivano direttamente dalla scatola di bottoni della mia nonna il mio pompon è realizzato con questo accessorio sempre marchio prim che fa parte di un set per realizzare pompon in diverse misure se volete saperne di più trovate la mia video recensione e il tutorial passo passo per realizzare i pompon sempre qui sul mio canale youtube ho decorato il mio alberello con i bottoni ma potete personalizzarlo come preferite ad esempio con degli svaroschi delle perline negli charm insomma potete personalizzarlo secondo il vostro gusto e la vostra fantasia avete voglia di condividere qualche spunto creativo in merito potete farlo scrivendo un commento proprio qui sotto il video e se questo tutorial sarà di vostro gradimento mi raccomando fatemelo poi sapere lasciando un bel pollice in su prima di cominciare dobbiamo verificare che tutti e quattro gli aghi presenti nella parte superiore del mulinetto siano aperti se vi trovate quindi in una situazione di questo tipo andate ad aprire ogni ago rimuoviamo il peso dalla parte inferiore svitiamo e agganciamo il mulinetto al nostro tavolo prendiamo il nostro filato e lo facciamo passare all'interno di questo foro finché non uscirà dalla parte inferiore del mulinetto in questo momento il peso è attaccato al capo del mio filo quindi per evitare che il filo scenda tutto all'interno del mulinetto lo vado a sorreggere con la mano e sempre con la mia mano vado a guidare il mio filo solamente per il primo giro tenendolo in questo modo giro la manovella e consento al primo ago di prendere il filo sposto il filo così da saltare il secondo ago consento al terzo ago di prendere il filo e salto il quarto quindi solamente all'avvio del primo giro il filo viene preso dal primo e dal terzo ago saltiamo il secondo e saltiamo il quarto da questo momento in poi il filo viene preso da tutti e quattro gli aghi in questo modo e andremo così a formare questo intreccio di fili mano a mano che lavoriamo il nostro peso posizionato all'altro capo del filo andrà a tirare il nostro cordoncino che uscirà dalla parte inferiore del nostro mulinetto facciamo qualche giro e lo vediamo insieme attenzione non dovete sganciare il mulinetto dal tavolo io l'ho fatto per mostrarvi ancora più da vicino i prossimi step ci troveremo in questa situazione con i primi giri del nostro cordoncino e il peso legato al nostro filo che piano piano si avvicina a terra dobbiamo ora spostare il peso attraverso la lavorazione così da poter proseguire a creare il nostro cordoncino prendiamo quindi il peso tagliamo il nostro nodo prendiamo il filo e lo facciamo ripassare all'interno del peso e vi facciamo passare all'interno anche la nostra lavorazione in questo modo vedete che lungo il peso ci sono delle scanalature ne scegliamo una e vi spostiamo il cordoncino all'interno in questo modo e potremo così continuare a creare anche metri e metri di cordoncino dobbiamo poi solamente prestare attenzione alla posizione del peso non deve mai toccare quindi piano piano lo sposteremo sempre più in alto e riposizionando la nostra lavorazione all'interno della scanalatura torniamo quindi a girare la nostra manovella lavorati i primi 80 centimetri di tricottino o cordoncino possiamo iniziare ad avvolgerlo intorno al nostro cartone attenzione non ho staccato il mulinetto dal tavolo è ancora lì pronto per continuare a produrre cordoncino in pratica lavoriamo contemporaneamente sia sul mulinetto sia intorno al nostro cartone vado a tagliare il filo in eccesso e applico un po di colla qui nella parte inferiore del mio cono prendo il cordoncino e lo faccio aderire alla superficie dove ho posizionato la colla premo per qualche secondo così che il cordoncino si attacchi alla base e proseguo in questo modo aggiungendo sempre colla e tornati qui al punto di partenza proseguiamo a spirale quindi posizioniamo la colla e continuiamo a salire con il nostro cordoncino girando intorno al cono e allo stesso tempo continuiamo a creare cordoncino grazie al mulinetto che ancora agganciato al nostro tavolo proseguendo in parallelo non rischiamo così di ritrovarci con poco cordoncino rispetto a quello che ci servirà per ricoprire tutto il nostro cono proseguiamo quindi in questo modo fino ad ottenere un risultato come questo vediamo come chiudere la lavorazione con il nostro cordoncino siamo all'incirca a un giro di cordoncino per completare la nostra copertura ne lavoriamo sempre un pochettino in più andiamo qui sulla punta del mulinetto e tagliamo il filo prima che questo venga preso dai nostri aghi fatto questo togliamo il filo e facciamo girare gli aghi a vuoto quindi senza più prendere il filo la lavorazione si sgancerà così dai nostri aghi e possiamo così farla uscire dalla parte inferiore del mulinetto sulla cima del nostro cordoncino ci resteranno quattro asole ma per il momento le lasciamo in sospeso sfiliamo il nostro peso facendolo scorrere attraverso il lavoro e usando sempre la colla andiamo a completare l'ultimo giro di copertura completato il giro abbiamo due possibilità possiamo interrompere qui la nostra copertura oppure se abbiamo abbastanza cordoncino sempre con la colla andare a riempire anche la parte qui superiore per chiudere questo spazio nel mio caso scelgo di fermarmi proprio qui lungo il bordo e come vedete ho ancora del cordoncino avanzato come mi comporto vado piano piano a tirare il filo che vedete ancora libero qui sulla punta del cordoncino e sfilo semplicemente i miei punti quando mi avvicino il più possibile a dove devo chiudere il lavoro mi fermo e con l'aiuto di un ago vado a recuperare le quattro asole che mi si presentano qui passandovi all'interno la prima onda terza e quarta e porto il filo con me tiro bene il filo e ho così chiuso l'estremità del mio cordoncino faccio poi passare una parte del filo in eccesso all'interno del lavoro proprio all'interno del cordoncino così da bloccare ulteriormente il tutto e taglio il filo in eccesso e con una puntina di colla vado a bloccare la chiusura del mio cordoncino una volta ricoperto tutto il nostro cono non ci resta che decorarlo per trasformarlo in un vero e proprio alberello di natale le decorazioni ovviamente sono a piacere io ho deciso di applicare pompon nella parte superiore e andare sempre ad applicare con la colla tanti piccoli bottoni colorati che avevo proprio qui nella mia craft room ma ulteriori spunti creativi per voi potete creare dei pompon ancora più piccoli aggiungere degli strass delle perline dei piccoli charm insomma potete personalizzare il vostro alberello come preferite e vi appoggio il mio pompon e con l'aiuto di questi spilli sempre a marchio prim vado a posizionare temporaneamente i miei bottoni lungo tutto il mio alberello in questo modo ottengo una visione di insieme e all'uso posso spostare la posizione dei miei bottoni prima di fissarli definitivamente con la colla alla mia lavorazione ed eccolo qui il mio alberello completato reso particolarissimo da questi bottoni super colorati voi che decorazione applichereste a un alberello come questo fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video e se avete apprezzato questo tutorial fatemelo ovviamente sapere poi con un bel pollice in su per realizzarlo abbiamo utilizzato un semplice cono di cartone nel mio caso un avanzo di una rocca il mulinetto comfort twist di prim per creare il cordoncino o tricotin filato di cotone il set per realizzare il pompon presente qui nella parte superiore sempre di prim colla ht2 di gutterman i bottoni nel mio caso vintage decorativi per la colla e tutti gli accessori a marchio prima che vi rimando a tutte le mercerie e negozi rivenditori del marchio li trovate anche nella mia lista di consigli per gli acquisti amazon nel box informazioni sotto il video perciò con questa semplice ma secondo me molto carina idea natalizia vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia nuova pubblicazione sempre qui sul mio canale youtube uncinetto d'argento